La giornata di oggi è inserita nel programma del Maggio Donna e noi come Società di San Vincenzo abbiamo pensato di fare qualcosa anche per le donne straniere che venissero a conoscere un po' le donne di Varese. E allora abbiamo invitato tutte le comunità e non tutte parteciperanno, comunque c'è un certo numero che presenteranno anche i loro cibi tradizionali e il loro tigianato. Questo avverrà tutto nei saloni di Villa Recalcati. Bravo.